Dal 13 giugno sono stati affidati i lavori di rifacimento di quello che è il manto erboso del campo dello stadio di Pesaro, quindi un lavoro da 900.000 euro che prevede la sostituzione dell'attuale manto in erba naturale con un'erba sintetica di ultima generazione, con lo spostamento e la traslazione del campo da calcio di qualche metro per renderlo più centrale rispetto a quella che era una collocazione non più centrale. È un intervento che è partito il 13 giugno e sulla quale l'amministrazione ha dovuto individuare questa come priorità a seguito anche del fatto che quel campo purtroppo non drenava più. Insieme alla società stiamo portando avanti anche una vera e propria progettualità che interessa la riqualificazione dello stadio Benelli di Pesaro. Lo stiamo facendo sia rispetto a un progetto che abbiamo già pronto, che prevederà poi anche la copertura della tribuna, mentre un altro progetto in tandem ad Aspes, con il quale si sta portando avanti la permuta di quello che è la vecchia tribuna, la vecchia tribuna Prato con la capacità edificatoria e il campo da calcio supplementare che rimanevano in capo ad Aspes. Questo consentirà ad Aspes appunto di andare a realizzare un manufatto di dimensioni tutto sommato contenute rispetto a quella che è la capacità edificatoria che si potrebbe sfruttare in quell'area per andare a realizzare una serie di locali che possono dare davvero valore non solo allo stadio ma anche al quartiere. Si creerebbe molto più spazio rispetto a quella che è la situazione ad oggi con il passaggio anche di una pista ciclabile, la realizzazione di posti auto e anche di una sala polifunzionale da sfruttare, da poter utilizzare anche a disposizione del quartiere stesso. Quindi un lavoro importante è questo che riqualifica non solo lo stadio ma anche proprio tutto il quartiere di Pantano e di conseguenza la città.